Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabbiambrosi.it quest'oggi parleremo dell'oscilloscopio, ovvero di quello strumento che serve per misurare la luminosità di un segnale video prima però vi ricordo, come sempre, www.fabbiambrosi.it sito dove troverete gli articoli di questi video tutorial oltre a tante news sul mondo del broadcast, dell'informazione, dei media in generale delle nuove tecnologie utilizzate per creare contenuti multimediali vi ricordo e vi invito anche ad iscrivervi a questo canale YouTube perché nei prossimi mesi probabilmente faremo anche delle sessioni live di tutorial per poter permettere a chi vuole di fare domande al volo in diretta e se vi fa piacere cercatemi su Facebook, cercate Fabio Ambrosi, la pagina, mi raccomando mettete un like e rimaniamo in contatto così da poter restare aggiornati sulle novità di fabbiambrosi.it Torniamo a Premiere, parliamo dell'oscilloscopio, cos'è e a cosa serve nella scorsa lezione abbiamo visto il vettroscopio, questo strumentino qui per vedere la componente cromatica di un'immagine bene, disattiviamolo, clicchiamo su vettroscopio, spegniamolo e per accendere chiaramente il nostro oscilloscopio deve essere attiva la voce forma d'onda lume, luma in questo caso luma, ma come già ho avuto modo di dire abbiamo diverse tipologie di oscilloscopio in questo caso è luma, potremmo misurare l'RGB, eccetera eccetera ma voi per rimanere semplici lasciate sull'uma ok, mi raccomando, non addentriamoci troppo altrimenti, specie se siamo all'inizio, all'inizio ci perdiamo a cosa serve l'oscilloscopio? come dicevo, l'oscilloscopio serve per misurare la componente luminosa di un'immagine la luminanza, in altre parole vale a dire quanto un'immagine è buia o quanto un'immagine è luminosa detta proprio così, semplicemente e come si legge? Bene, l'oscilloscopio è un grafico a due assi, asse verticale e asse orizzontale l'asse orizzontale rappresenta la nostra immagine così come appare da sinistra verso destra l'asse verticale ci indica quanta luminosità detta proprio così volgarmente c'è all'interno dell'immagine il nero è in basso e il bianco è in alto nel nostro caso abbiamo delle barre barre colore, abbiamo un bianco e abbiamo un nero, vedete che il bianco e il nero sono per tutta l'immagine della nostra sono disposte lungo tutta la nostra immagine quindi abbiamo il bianco qui in alto il nero qui in basso e poi i vari colori o meglio le informazioni della luminanza dei vari colori sono disposti nella posizione intermedia tra il bianco e il nero come bisogna regolarsi quando si fa la color correction? bene, non dobbiamo mai arrivare con i bianchi al 100% così come non dobbiamo mai arrivare con i neri allo 0% di norma questa è la regola poi ci sono degli standard broadcast su cui adesso non entriamo che prevedono proprio delle percentuali massime e minime entro cui rimanere con i valori dell'oscilloscopio se siete interessati cercate online e approfondite come dico sempre questo non è un corso di color correction non siamo qui per imparare a fare color correction stiamo solo vedendo come funzionano questi strumenti poi chi è interessato e vuole approfondire ovviamente online troverà molta documentazione e anche vari tutorial molto validi di gente che ne sa veramente tanto che vi può dare tantissime dritte per quanto ci riguarda passiamo ad un'immagine reale l'immagine dell'altra volta del castello questo è un oscilloscopio così come normalmente vi appare quando lavorate ad un'immagine i neri sono in basso i bianchi sono in alto l'immagine lo ricordo si legge da sinistra verso destra potete vedere che la strada che è molto luminosa eccola qui viene rappresentata sulla sinistra del nostro istogramma la parte dell'immagine più scura di questi alberi dove c'è molto nero eccola qui lo vediamo qui in basso sulla sinistra del nostro istogramma del nostro oscilloscopio sulla destra diciamo una situazione un pochettino più omogenea non abbiamo punti eccessivamente luminosi non abbiamo punti eccessivamente bui e infatti vediamo che questa parte delle colline che sono forse la parte più scura dell'immagine di destra viene rappresentata in questa posizione mentre il cielo, le nuvole la parte diciamo più luminosa eccola qui viene rappresentata qui sulla destra come regolarci? dicevamo non dobbiamo mai dobbiamo cercare di evitare di arrivare al 100% così come dobbiamo evitare di toccare lo 0% quando facciamo la color correction modifichiamo la luminosità delle nostre immagini perché? perché se andiamo troppo in su rischiamo di perdere informazioni guardate io ho volutamente esasperato l'esposizione ho perso completamente le informazioni sul cielo di fatto non vedo più le nuvole non vedo più praticamente i dettagli della strada e me ne accorgo già solo guardando questo grafico perché di fatto ho un bianco appiattito sul 100% quindi abbassiamo ovviamente l'esposizione l'avevo alzata volontariamente ma posso abbassarla ancora un pochettino perché per evitare che vedete il bianco arrivi a toccare il 100% c'è un'altra cosa che noto noto che per esempio qui c'è una linea molto dritta ok? che cosa vuol dire questa linea dritta? che probabilmente qui ci sono delle informazioni schiacciate compresse quindi forse è possibile tirar fuori qualche informazione aggiuntiva nella parte sinistra dell'immagine no? qui sulla strada e anche qui sulla destra anche se sulla destra come abbiamo detto la situazione è un pochettino più omogenea proviamo ad abbassare per esempio i bianchi vediamo cosa succede abbassiamo un pochettino anche le luci ok? proviamo a rialzare leggermente l'esposizione diamo un pochettino di contrasto in maniera da rendere questo questo grafico un po' panettone ok? ok riabbassiamo un po' l'esposizione possiamo se vogliamo giocare anche con le ombre possiamo recuperare qualche informazione dalle parti di immagine troppo scure troppo scure alzando le ombre ok? e direi che questa è un'immagine che già di suo è per quello che è possibile fare va bene va bene così ok? ripeto serve molta esperienza serve tanta pazienza per imparare a controllare questi valori e per leggere un oscilloscopio e per fare una buona color correction in rete troverete sicuramente molta documentazione e molti tutorial molto validi sul come fare poi una color correction che è veramente molto difficile qui adesso noi stiamo giocando stiamo vedendo come funzionano questi strumenti ma ripeto è un mondo a sé la color correction che ha poco a che fare con il montaggio video di norma quando si lavora in grandi produzioni c'è chi fa il montaggio e chi fa la color correction nelle piccole produzioni spesso queste due cose vengono affidate al povero montatore quindi bisogna saperle fare però ecco sappiate che la color correction non è un gioco che si fa così in 4 e 4 e 8 serve sicuramente molta esperienza e molta molta competenza a monte bene basta così per il momento ci fermiamo nel prossimo video tutorial andremo ancora avanti a parlare di color correction vi ricordo www.fabioambrosi.it troverete lì l'articolo di questa video lezione troverete anche tante notizie quindi fate una capatina di tanto in tanto sul sito iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere anche le lezioni live che faremo nei prossimi mesi cercatemi su facebook cercate come Fabio Ambrosi cercate la pagina mettete un like lì vi informerò quando faremo i corsi live vi informerò sui nuovi tutorial vi informerò quando usciranno anche dei nuovi corsi stiamo preparando un corso su After Effects quindi mi raccomando restate lì e restate aggiornati grazie mille al prossimo video tutorial ciao ciao